La Juve. Resta ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. Nonostante la conferma incassata nei giorni scorsi da Maurizio Scanavino, c'è infatti la possibilità che il tecnico possa lasciare la Juventus. Recentemente si è parlato di un'offerta economicamente irrinunciabile recapitata dall'Arabia Saudita, tuttavia, come riporta Calciomercato.com, la destinazione non lo entusiasmerebbe. Il Summit di Monte Carlo in cui Allegri avrebbe dovuto incontrare gli emissari del club saudita non ha mai avuto luogo. Il soggiorno nel Principato è stato solo per diletto personale, una vacanza in una cornice da sogno. Sempre secondo CM, il Livornese ha detto no a quasi 100 milioni per tre anni di lavoro perché la sua priorità è quella di allenare ancora ad alti livelli e, inoltre, non intende allontanarsi così tanto dalla famiglia, che non ha mai nascosto di trovarsi benissimo a Torino. Come abbiamo accennato prima, però, la sua permanenza sulla panchina bianconera non è ancora garantita al 100%. Già, perché sulle tracce di Allegri c'è anche il Paris Saint-Germain, a caccia di un nuovo allenatore dopo il flop targato Galtier. I transalpini trattano con Nagelsmann, ma sulla lista degli obiettivi di Luis Campos c'è anche il nome del tecnico della Juve che prenderebbe in serie a considerazione un'offerta del PSG. L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com barrite come Allegri rifiuta l'Arabia Saudita, ma un club europeo può ancora strapparlo alla Juve.